Questo concetto del mutante deve essere chiaro che nell'ironia noi stiamo parlando di qualcosa di molto serio e non è la persona protagonista di questa manifestazione. Chiunque essa sia, in questo caso sono io, ma come Pierre vi ha spiegato, è un essere che si serve di strumenti. Quindi, in questo caso, il vostro fratello che vi parla è strumento di. Però succede anche che questi esseri mutanti, o esseri di luce se volete ancora meglio, possono direttamente incarnarsi. Non cambia la missione né la funzione che devono espletare. Poi i modi per incarnarsi, cioè i modi per manifestarsi, sono la personificazione o l'incarnazione. O addirittura il condizionamento. Cioè un mutante non necessariamente deve personificare o incarnarsi, può anche servirsi a distanza di un personaggio. Questo accade solo per alcuni momenti. Può accadere in certe situazioni, Pierre, che il mutante può servirsi di una persona temporaneamente e basta. E poi lo lascia, a seconda della persona, la predisposizione che ha. Nel caso mio personale, visto che Pierre vi aveva promesso di farvene trovare uno oggi qui presente, a me è successo all'età di nove anni che questo essere ha preso posizione della mia identità. Quindi ne ho 57 da 47 anni, lui 48 anni, ormai quest'anno ne compie 57, vive, prima mi ha iniziato, dieci anni di preparazione grazie al mio maestro Eugenio, perché non è che arriva e uno viene buonasera, buongiorno e arriva il mutante di turno. Ci vogliono dieci anni di iniziazione, come l'università, peggio, perché l'iniziazione comprende tutto lo scibile delle esperienze dell'uomo, la sofferenza, il dolore, la gioia, il tradimento, l'amore, l'amore con il sesso opposto, i valori della vita, i valori materiali, l'educazione del corpo. Io ho fatto tanto sport, per esempio. Finché arriva il giorno, a me è successo il 2 di settembre dell'89, che questo essere prende posizione definitivamente, perché prima è nell'aura della tua vita. Nel caso mio però, ripeto, c'è stata una differenza. Lui ha preso posizione con questo incidente stradale e io sono morto, praticamente. Mi ha avuto un incidente, ero bambino, giocavo a pallone, vado nella strada a prendere il pallone e una macchina mi sbatte a piena velocità. Sono morto sotto un'altra macchina. Mio padre ha visto l'incidente in diretta. e mia mamma dal balcone è scesa scalza, in mezzo ai vetri, non si è accorta di niente, perché ha visto il figlio morto sotto un'altra macchina. Invece sono risuscitato. Ho raccontato forse una volta a mia mamma cosa ha fatto. Non lo so se loro lo sanno, se poi lo racconto. Prego. Mio mamma all'ospedale, io e il ragazzino di 9 anni, una mamma dà la vita per il proprio figlio. Mi porto in insale operatoria perché mi devono cucire, avevo la testa spaccata. E' trauma cranico, prognosi riservata. Mia mamma va ai piedi della Madonna di Fatima che c'è nell'ospedale di Siracusa, in Sicilia. C'è una grande statua della Madonna di Fatima. Lei si mette, si prostra, con la faccia per terra, e la gente la guardava, diceva poverina, forse il figlio gli sta morendo. e dice, Santa Madre, ti prego, salvalo, te lo offro per sempre. Cioè, io ti prometto di darti mio figlio, di non vederlo mai più, e che lui fa il missionario per il mondo, ogni tanto mi telefona, però non me lo farei morire. Cioè, è una profezia accolta in pieno. E io infatti poi praticamente resuscito. Mio padre mi diceva sempre, tu sei nato quel giorno. Cioè, non lo diceva mio padre laico, eh? Nessuna preparazione teologica, spirituale, ha detto, tu per noi, famiglia, sei nato quel giorno. Cioè, erano parole che avevano un senso, no? Un'intuizione. Eh, sì, un'intuizione, sì. Quindi questi esseri sono dei cherubini, viaggiano nell'universo, hanno un corpo di luce, che potete vederlo se loro abbassano la frequenza e si fanno vedere anche fisicamente. e la frequenza la portano sul piano dell'energia solare. La stessa luce che voi vedete del sole, luce elettromagnetica, trasmessa dal calore, dalla fusione che c'è il sole, dell'atomo di idrogeno con gli atomi di elio, eccetera, eccetera. Quello stesso plasma solare, quando questi esseri di luce si materializzano, hanno quel corpo lì. Perché il corpo di luce, degli esseri di luce che vivono nel sole, è di plasma solare. Quindi diciamo, ma com'è che non si bruciano? Ma se è fatto dallo stesso sostanzo del sole, come fanno a bruciarsi? E quindi quando loro decidono di farsi vedere da noi, succede che noi vediamo un pezzo di sole, però la temperatura che loro hanno, quando si fanno vedere, è di 35-36, massimo 40 gradi. Quindi non è che ci bruciamo se li tocchiamo. Li possiamo toccare anche, solo che li attraversiamo. Se tu tocchi un essere mutante di questi cherubini, tu se lui dice abbracciami, tu abbracci e viene avvolto dalla luce, non tocchi il corpo, però tocchi l'energia materializzata. Perché si materializza. Senti la temperatura. Senti tutto il calore. Senti come se c'è il termosifone. Ma che sto chiamo, termosifone? E quindi lui ti trasmette tutta la sua energia. Può anche compenetrarti se vuole, se tu lo permetti. Quando scelgono di incarnarsi, è una grande sofferenza. È come una specie di imitazione di Cristo. Invece quelli che, durante, per esempio, quelli che non si incarnano e si fanno vedere così, sono fortunati perché poi tornano nella loro dimensione. Invece chi si incarna segue il passo glorioso del Cristo. Cioè deve soffrire, non ha i poteri. Se glieli danno, non sono in grado di gestirli. Li deve gestire, chiamiamolo l'angelo custode, la guida, il fratello, che segue il percorso del mutante sulla Terra. Io ho uno, due esseri cherubini che mi seguono costantemente. Uno si chiama Setun Schener e l'altro si chiama Itakar. Sono dei messaggi che tu hai letto. E mi accompagnano sempre per evitare che la materia possa avere il sopravvento sulla mia vera identità. Loro immediatamente intervengono. Attenzione, la materia, nel senso di... anche di protezione fisica, o di debolezza. Cioè il mutante non può cadere in nessuna debolezza. Viene tutelato. E quindi segue il percorso di Gesù, che è un altro mutante, ma lui è stato personificato da Cristo, che è l'intelligenza divina. E questa è la differenza di Gesù. Sesta dimensione. Sesta e settima, perché sono collegati. E quindi siamo qua, in missione, muoiono, vengono uccisi, ma rinascono. Io non vedo l'ora di lasciare questa carcassa, che ormai è la 126. Ve l'ho ricordata la 126. Che ci fai con la 126? Puoi andare in giro con la 126? Sì, ci puoi, però arrivi domani mattina, fam 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 fam, cammina così. Questo è il mio corpo. E quindi, se vi basto con la 126, arrangiate. Vabbè, per oggi ci accontentiamo, Giorgio. Vorrei un corpo nuovo, ma lo decide il nostro re, perché i mutanti dipendono tutti da Cristo. O da adoniesis, che come se lo fosse.